Buonasera, volevo rispondere a questo commento. Parlare del libro di Enoch su internet è sempre un rischio. Ma rischio di cosa? Di diventare troppo intelligenti? Guarda, tutti quelli che parlano di questo libro non l'hanno letto. Soprattutto l'avranno letto in inglese, no? L'avete letto in inglese? Dopo che quelli altri gli hanno messo mano? No, perché vi siete tutti dimenticati che comunque quando hanno smesso quegli altri che per duemila anni andavano in giro per il mondo a derubare le persone, non solo economicamente, ma dei loro reperti archeologici, riscrivendo la storia a modo loro, cancellando tutto quello che non gli andava bene. Poi hanno iniziato, e parlo di quelli che stanno a Roma, poi hanno iniziato quelli sull'Atlantico, quelli che hanno l'isoletta nell'Atlantico, quell'isolona là, hanno iniziato ad andare in giro per il mondo, a derubare gli egiziani dei reperti egizi, a derubare, insomma, dovunque andavano loro si fottevano e si rubavano tutti. Addirittura, se parliamo della città di Yerushalayim, sapete quanti danni hanno fatto i crociati? hanno spaccato, devastato, rubato. Addirittura è venuto fuori che delle tavolette d'argilla erano in mano ai crociati, poi sono passati in mano i templari. Poi sapete che i templari li hanno fatti fuori, hanno fatto dei giri. E' l'unica paura, l'unico rischio, è che diventiamo intelligenti. Però quelli che vendono i libroni, vi dicono il Dio qua, l'Ieno, la Bibbia parla di guerra. Io andrei a informarmi chi è quella gente lì. Dal primo all'ultimo. Perché io non ho mai fatto parte di nessuna loggia massonica. E voi sì. E poi magicamente dite, no, ma noi ne siamo usciti. Come se da quelle cose si potesse uscire. Ancora peggio, siete i pentiti, no? Siete i Torquemada. Torquemada. Era il peggiore inquisitore. Perché era un ebreo convertito. Era un marrano. Erano i peggiori. Erano i peggiori. E' proprio così. Aveva ragione. Gesù a dire che chi ti tradisce è un amico. Non ti può tradire un estraneo. Di un estraneo non ti fidi. Ti tradisce sempre un amico. Quello che ti viene vicino. Magari ti adora tanto. Però li stai sulle palle. Perché tu sei tu. E lui non potrà mai essere come te. Perché questo invidiosone non capisce che lui non deve diventare come te. Deve diventare se stesso. Allora ti tradisce. E così tutte le persone intelligenti di questo mondo. Quelli che studiano. Quelli che hanno provato a cercare la verità. Vengono puntualmente prima dei risi. Poi combattuti. Poi dopo la loro morte. Magicamente riconosciuti come dei brillanti. Visionari. Voi vi siete accorti di Gandhi dopo che è morto. Vi siete accorti di Gesù dopo che è morto. Vi accorgete delle persone dopo che muoiono. Dal primo all'ultimo. Perché pensate che le persone siano eterne. Gli Eterno c'è solo uno. È lassù. È in mezzo a noi. Ogni cosa che ci circonda è lui. E noi siamo uno con lui. Perché lui è dentro e fuori di noi. Ma l'unico rischio che si può correre nel leggere il libro di Enoch. Ma non quello di quelli là. Quello degli etiopi. È di aprire un po' il cervello. In realtà non c'è nessun mistero. Sia il libro di Enoch che tutti i testi sacri. Non vanno letti o imparati a memoria. Come i pappagalli. Io vedo delle persone che vengono nei miei post. Anche su. Ieri su YouTube uno ha ripetuto a pappagallo. La favoletta imparata a memoria. Sì, sì. Siete bravi a imparare le cose a memoria. Io non ho mai imparato niente a memoria. Ho sempre cercato. Imparare le cose sulla mia pelle. Voglio che tocchino la mia pelle. La mia anima. Voglio che mi diano qualcosa. Voglio che diventino vita. In effetti, la te fila la preghiera senza la cavana l'emozione, l'intenzione. Sono parole al vento, vuote. Potete ripetere tutte le preghiere a memoria, in tutte le lingue del mondo. essere i più bravi. Ma se in quella preghiera non c'è l'anima, non c'è la vostra anima, non c'è l'intenzione della vostra anima. Sono parole vuote al vento. Quindi io penso che l'unico rischio che a loro dà fastidio non è che io dico la verità, ma che magari vado a confutare le loro balle, le loro bugie. Perché se volete veramente leggere il libro di Enoch, iniziate a leggerlo in una visione cabalistica. Quindi di che matria ogni parola analizzarla nel suo contesto alfa-numerico. Viverla sulla vostra pelle e capire che non sono dei testi da leggere come un romanzo giallo, un thriller per fare botteghino, ma sono testi da vivere. Perché veramente l'alfabeto ebraico è un essere vivente. Vive, ve lo giuro, vive. La Torah è viva. Non è un po' un po' di inchiostro su della pergamena, sulla carta e fuoco nero su fuoco bianco ed adesso vive. Buona serata a tutti. e poi non dimenticate quello che vi ho detto Enoch non è Enoch Enoch discendente di sé terzo genito di Adam che poi viene portato via e il suo nome cambia in Metatron e guardate che non è solo scritto nel libro di Enoch il nome di Enoch o sulla Torah nella Bereshit di Enesi. Enoch Metatron lo trovate anche nel Quran che si chiama Idris e lo incontra il profeta Mohammed proprio in questo viaggio notturno dove incontra il patriarca Giuseppe Ametantukar il padre Abraham Aaron Moshe ma anche Idris Metatron Enoch Ok Buonanotte 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 Grazie a tutti